Musica Ma aspetta un attimo, andiamo con calma Ciao Youtube, io sono Simone Bondi, BondiJ Allora oggi che succede? Sono andato in viaggio, ho fatto un viaggio di tre giorni, ok? E sono andato a Roma, Napoli e poi di nuovo a Roma Ho fatto questo viaggio da solo, perché volevo provare questa esperienza da tanto tempo Infatti spesso mi dicevo, voglio fare un viaggio da solo, voglio fare un viaggio da solo Finalmente ce l'ho fatta Avevo un po' paura di partire da solo, perché non è facile, sai? Partire da solo, varie cose, ti mette un po' timore Però niente, ce l'ho fatta E quindi niente, se volete vedere cosa mi è successo in questi giorni Che poi non sono stato tutti e tre i giorni solo in realtà Però se volete sapere cosa è successo dopo la sigla, lo scoprirete Sigla! Eccoci qua, buongiorno, sono le due e mezza del mattino Io sono andato a dormire a luna, mi sono svegliato alle due Perché dovevo mettere musica a un evento E niente, adesso devo andare a Bologna a prendere Flixbus Perché oggi parto per Roma Ed eccoci qua, siamo arrivati a Roma, finalmente! Allora, sono partito da Bologna, ho preso l'autobus appunto in stazione Che avevo l'autobus che è arrivato a Roma Tiburtina E poi dopo, da Roma Tiburtina, con la metro, sono arrivato a Roma Termini Infatti il mio albergo è molto vicino appunto a Roma Termini E niente, allora, il programma di queste giornate sono oggi, la visita di Roma E domani invece si andrà a Napoli E mercoledì continueremo invece a Roma Faremo un'altra zona, quella della città del Vaticano Niente, si parte Andiamo! Queste due notti ho dormito all'hotel Palladium Palace Proprio vicino alla stazione Termini Hotel molto carino, mi aspettavo un pelo di più Però, vabbè, dai, diciamo che... Sì, è stato accettabile Il primo monumento che ho visto Proprio di fianco, vicinissimo alla stazione Termini E la Basilica di Santa Maria Maggiore E dopo essermi mangiato una buonissima pasta con l'albicocca Sono andato verso il Quirinale Dove ho assistito anche al cambio della guardia E poi è stata la volta della Fontana di Trevi Per la prima volta senza monettine Da quando vado a Roma E proprio nella zona della Fontana di Trevi C'è una galleria molto bella La Galleria Charra Mi sono diretto verso la chiesa di Sant'Ignazio Per andare a vedere la cupola che non esiste Infatti sembra ci sia una cupola In realtà è solo un disegno E un effetto ottico E poi Piazza di Spagna Ci siamo E ci siamo, e ci siamo Allora, mentre questa mattina abbiamo visitato un po' La parte più centrale di Roma Quella in cui c'è la Fontana di Trevi Piazza di Spagna E appunto altre cose caratteristiche Che sono proprio nel centro di Roma Oggi pomeriggio Sono già alle 5 Quindi oggi tardo pomeriggio Perché ho dormito un paio d'ore in albergo Per riprendermi Dal fatto del viaggio notturno Oggi pomeriggio andiamo a visitare Il Colosseo La Bocca della Verità E la zona un po' più verso il Circo Massimo Tanto che adesso sto cercando Dov'è il Colosseo? Dove cavolo è questo Colosseo? Ah! Ah! Eccolo lì L'abbiamo trovato Ed eccoli qua Anche il Circo Massimo E la Bocca della Verità E proprio vicino alla Bocca della Verità Esiste una serratura Dalla quale si riesce a vedere La cupola di San Pietro Purtroppo è quasi impossibile Mettere a fuoco Ed eccoci qua Allora terminata la giornata di oggi Sono circa le 11 Adesso è arrivato il momento Di andare a dormire E purtroppo E purtroppo niente movida romana Per Napoli è un po' casuale Anche se ovviamente Alcune tappe ci sono Tipo la Spacca Napoli Che la voglio vedere assolutamente E quartieri spagnoli Molto interessanti E poi dopo soprattutto Voglio il cibo napoletano Non vedo l'ora A dopo Siamo arrivati a Napoli Allora abbiamo visto La stazione metropolitana A Toledo Che è veramente fantastica Adesso mi sono calmato a mangiare All'osteria Toledo L'ho trovata per strada E mi piaceva C'è un tavolo fantastico Una toalla bellissima E mi sono fermato a mangiare qua E dopo un babà affogato nel room Mi sono ritrovato nella galleria Umberto I E poi ho fatto una passeggiata Sul lungomare Dal Castel Nuovo Al Castel del Lovo Dopo Piazza del Plebiscito Che fai Non vuoi prendere una pizza A Napoli E poi Un ultimo giro Prima di tornare A Roma A Roma Il Castel Nuovo E siamo arrivati al giorno 3, allora, oggi nuova giornata, ieri sono stato a Napoli, Napoli veramente magnifica, adesso ci tornerò sicuramente, anche perché vederla in un giorno proprio, ho visto solo un po' la città fuori, i paesaggi, il cibo, mamma mia che buon cibo si mangia a Napoli, e per dopo già un itinerario di diversi posti da vedere la prossima volta che ci andrò, rimarrò magari 3-4 giorni. Infatti con appunto il virus anche molti posti non erano visitabili se non tramite prenotazione, e io ovviamente avendo fatto le cose un po' così all'ultimo, non ne avevo prenotato, ma ho fatto lo stesso un giro per il centro storico di Napoli, veramente bello, bello, molto molto bello. Oggi, ultimo giorno, andiamo a vedere la zona appunto del Vaticano qua a Roma, beh, non prima di aver fatto colazione. L'ultimo giorno ho incontrato Noemi, una mia amica di Roma, e insieme a lei ho visto San Pietro, Piazza del Popolo, il Belvedere del Genicolo, il Drastevere e il Pantheon. Ebbene, finisce il video. Quindi dai, facciamo un attimo un resoconto di questo viaggio da solo. Allora, ci sono state diverse cose belle, infatti il bello di viaggiare da solo è che decidi tutto tu. Cioè, di solito io ho viaggiato spesso con i miei amici, con i miei ex morose, o con altre persone, e ovviamente quando sei in due si decide al 50%, circa. Quando sei in di più, ovviamente si ha meno margine di decisione un po' sulla vacanza. Spesso anche quando sei in tanti magari si può arrivare a delle viti. Quindi il bello di viaggiare da soli è che decidi tutto tu. Cos'è la parte brutta? La parte brutta forse è non poter condividere le parti più belle. Il viaggio o qualcun altro, quella forse è molto più la parte brutta. Però è stata un'esperienza molto bella, infatti spesso si dice che bisogna imparare a stare da soli, a riuscire ad apprezzarsi da soli. E sono veramente contento di aver fatto questa esperienza. Probabilmente lo rifarò, perché mi è piaciuta, è stato divertente. E ho visto Napoli che non l'avevo mai vista. Meravigliosa. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e ci vediamo nel prossimo video. Io sono sempre Simo e Bonti, buon DJ. Ciao, YouTube! Power! Believe it!